oh se non crepo mentre tossisco perché appunto benvenuti in un nuovo video mentre crepo se saranno tutti contenti aggiornamenti di merda vi giuro mi fa un'altra mente schifo cominciamo con l'enea che si becca e sta mangiando un capello che schifo l'enea riceve il mio capello no riceve il mio sferi di alces o elesis come volete pronunciare fine di interessante c'è solo questo vabbè chi se ne frega lì c'è delle meraviglie perché tanto voi l'avete già nell'italiano poi per ara hanno messo i due sbagliati perché l'originale ha i capelli neri e il ciuffo bianco è tipo questo azzurro però è rosso è rosso e nero brava è nera hai fatto una piccata e questo è l'americano passiamo al litti che non ci dà una sega grazie no non è bello interessante ci dà il maestro del sole il set che io odio di più in assoluto le cliché chi mi conosce sa quelle cliché di merda quindi l'interessante c'è solo questo nell'italiano fine e nel core ci becchiamo questo fine no perché nel coreano tanto questo è il mio sito io in ogni video lo sto pubblicizzando ma vedo che non vi interessa e ragazzi io la maggior parte scrivo lì almeno qua è tutto più ordinato a voce lo dico a merda e voi cosa ci capite niente ma partiamo dall'inizio ci sarà il revent totale di ereda iron qui l'isola schifosa del rubabandiere e il balance totale del pg voi non vi rendete conto delle scazzate che hanno fatto non vi rendete conto allora elseworld l'hanno potenziato voi immaginate l'infinite ciao proprio ciao no riduzione del danno aumentato c'è babbo phantom sword aumentato durata aumentato c'è poi tu passi a isha levi teleport ecco extremamente costo aumentato grazie c'è danno di astone trasbaccata dimaglata wow vedete che missile nerfato ecco questo potono farlo solo in pvp ma wow rena tutta roba che non mi interessa perché della trapping alla fine più o meno e qui c'è l'hyper della queen the sneaker raven non mi interessa tanto non lo sto usando cioè voi lo leggete ma almeno non è che mi interessa tanto a raven ah adesso si può cancellare brava eve qualcosa di utile qualcosa di utile cioè allora l'effetto confusione l'hanno rimosso questo effetto è dato dalla nota cosa ci date adesso nella notte una ceppa di minchia bravi 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 ma porco ma atomic blaster qui pro the joker sarà contento ben aumentato range aumentato che bello la versione sonic gun è stato dimezzato perchè alla fine sono uguali uno trapassa uno no vabbè gigastream va a puttana lo sapevamo ho assalt speare dimezzato ciao empress ciao ciao non esiste più chang of chong tanto è sempre lui n'ha fatto il deadly tactical trooper pure Ma vi decidete se ne farlo o meno, sto povero Cristo? Un poverino. Ara? Vediamo un po'. Ma no! Ok, non devo più giocare con la sacra. Va bene. Porca troia. Cioè questi mi stanno costringendo ad abbandonare i coreani. Ah no, l'ho già fatta. Tanto lotto vado sulle gemo. E vabbè. Eh, l'esiste. Non me ne intendo perché non la uso. Lo dico così, pari pari, non la uso. Ad nerfato per felicità di tutti. E' nerfato. L'itbox è nerfato. Non l'ho messo ma è nerfato anche quello. Mastermind nerfato per la quinta volta. Quinta volta. Ah, non è nerfato anche il fury in pvp. Ad, richiedo un face floor da parte tua. Grazie. Ah, grazie. E' cobb. Poi levando di alone finito e fine degli aggiornamenti. Io non ne posso più, giuro. Non ne posso più. Non ne posso più di ste schifezze che mi fa colpio. Non ne posso più. E guarda, la nuova issue, ripeto, se vi iscrivete in sta pagina, mi fate un favore, perché potete vedere tutti gli aggiornamenti tranquillamente, perché a voce non si capisce niente. E al prossimo video, che appunto è il live di Azemu. E non farò qui su YouTube, ma su Twitch. Ciao!